Dal punto di vista occupazionale, per quanto riguarda Melfi, diciamo che abbiamo passato il periodo di crisi, perché come ben sappiamo in Sata ci sono stati 1500 assunzioni e presumo che altrettanti ce ne saranno nell'indotto, perché ci sono più o meno altrettanti interinali che dovranno iniziare a stabilizzare. Quindi questo ci fa presupporre che dovremmo essere usciti dalla crisi, però anche se non bisogna dimenticare il resto dei lavoratori, perché Melfi si è risolto, però dobbiamo cercare di risolvere anche negli altri siti produttivi, soprattutto per chi sta in gas integrazione, trovare delle soluzioni adeguate.